Caffettino Weekend, il riepilogone della settimana delle News Tech. Buongiorno e bentornati, buon weekend, sono Mario Moroni e oggi, nella nostra puntata del weekend, cerchiamo di fare un riepilogone delle news che sono passate di qua, dal Caffettino Podcast, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, più il riepilogone del sabato. Vi ricordo che, se non volete perdere nessuna notifica, potete fare follow su Spotify oppure anche andare sul canale Telegram Mario Moroni Canale. Abbiamo aperto la settimana con una notizia che riguarda TikTok. Molti licenziamenti in giro per il mondo, ma il social ci tiene a ribadire che non c'è nessuna riorganizzazione. Ecco, qui in questa news di inizio settimana cerco di approfondire quanto spesso noi vediamo questi social come grandissime aziende che vanno sempre bene, sempre in crescita, e quanto in realtà dobbiamo sapere distinguere la crescita mediatica dalla crescita aziendale, e dalla crescita anche di personale. Meta ha citato Meta, in giudizio. Sembra una barzelletta, ma in realtà una società che ha come brand Meta è stata, come dire, clonata per quanto riguarda il brand e quindi ha citato in giudizio la Meta, la holding di Facebook per intenderci. Sono andato ad aggiungere su LinkedIn il founder di Meta, ci ho fatto quattro chiacchiere e mi sono andato a vedere la news di The Verge che mi ha fatto scoprire questa notizia. Staremo a vedere come andrà a finire questo giudizio, ma è interessante fare un paio di riflessioni anche sul naming e su queste battaglie. Un'indiscrezione parla di Facebook che potrebbe, dovrebbe, forse utilizzerebbe i dati sanitari per fare la DV, tant'è che c'è una class action negli Stati Uniti, in particolare in California, contro Facebook che sembrerebbe mostrare inserzioni a chi è andato su un sito di un ospedale o ha vissuto esperienze ospedaliere. Tutto da vedere, da verificare, però apre chiaramente un capitolo importante che abbiamo già trattato in passato, ovvero quanto i dati sono utilizzati per fare a DV. E a proposito di medicina, la notizia importante di giovedì è che c'è una bella acquisizione da parte di Amazon che vuole fare il nostro medico probabilmente in futuro, perché ha acquisito una catena molto importante, innovativa negli Stati Uniti e quindi è una notizia interessante anche per quanto riguarda il nostro futuro. Cito un paio di cose anche personali, andatevi a ascoltare la puntata di giovedì. L'ascissione! Vi faccio anche, come dire, un suggerimento di serie TV da vedere. Il bello, in realtà, di questa serie è che le persone entrano in questa azienda e dimenticano la propria persona, la propria mente, la propria anima che è fuori dall'azienda. Quindi è come se ci fossero due personalità. E parto da questa serie cercando di citare un po' come siamo stati allevati noi nel mondo del lavoro, ovvero tieni lontano casa e lavoro, non portare il lavoro a casa, non portare i tuoi primi personali al lavoro, quanto oggi in realtà, anche grazie al remote working, si sta un po' tutto mixando. Interessante, credo, la riflessione e anche super la serie su Apple Plus, ma poi ve ne parlo nel podcast. Queste le cinque puntate del Caffettino Podcast che potete ascoltare andando via a rivedere le puntate di questa settimana, ma anche per tutto agosto, perché non ci fermiamo mai neanche il 15 agosto. Il Caffettino Podcast è sempre in vostra compagnia. Io sono Mario Moroni, questo è il Caffettino Podcast. Ogni singolo giorno, una sola news e la commentiamo insieme sul mondo del tech e dell'innovazione. Fate i bravi, buon weekend!